Una scena raccapricciante, quella a cui hanno assistito alcuni cittadini di Castel San Giorgio, stamattina in corso Claudio, a circa 100 metri dal palazzo comunale, hanno notato sul balcone di una vecchia abitazione, completamente nudo e con addosso soltanto il pannolino, un bambino di appena due anni. Immediatamente sono stati allertati gli agenti del comando della Polizia Municipale, dopo pochi minuti sono arrivati infatti i caschi bianchi guidati dal comandante Marco Inverso. Si sono trovati di fronte a quanto pare una situazione incresciosa e per questo hanno avvisato i responsabili dell'Ufficio Politiche Sociali del comune di Castel San Giorgio, che a loro volta si sono portati in corso Claudio, chiedendo l'intervento sul posto dei carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo di Mauro. Nel giro di pochi minuti si è creato anche un capannello di curiosi, persone che cercavano di capire cosa fosse avvenuto. Nell'appartamento, pare in pessime condizioni igienico-sanitarie, vivono due bambini di 4 e 2 anni, i genitori sono originari di Noceano Inferiore. Il papà dei bimbi camionista sarebbe quasi sempre fuori città per lavoro. I piccoli quindi rimangono con la mamma, che sarebbe già nota agli assistenti sociali. Questi ultimi, verificate le condizioni in cui vivevano i bambini e accertato che il più piccolo di due anni era stato trovato nudo e infreddolito sul balcone, hanno deciso di affidare temporaneamente i due minori alla nonna materna che vive a Noceano Inferiore, in attesa che dalle indagini dei carabinieri e dei vigili urbani possano emergere novità su questo caso che ha lasciato i cittadini di Castel San Giorgio senza parole. Anche da Palazzo di Città, intanto si preferisce attendere l'esito delle indagini prima di pronunciarsi in merito l'accaduto. Una vicenda che assume comunque contorni ancora più tristi se si pensa che oggi si festeggia San Valentino, giorno dedicato all'amore. E cosa c'è di più bello e significativo dell'amore verso bambini indifesi?